benvenuti al meteo di tele nuova domani giovedì 5 novembre estate di san martino ma nebbe diffuse su gran parte delle pianure italiane fitte in pianura padana umbria e toscana meno dense altrove poche piogge sull'italia siano risolate su sardegna orientale e sui monti tra l'abruzzo ed il molise sulla campagna arriverà dal martirreno aria moderatamente umida che favorirà nel corso della giornata la formazione di addensamenti nuvolosi il cielo sarà parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare non escludiamo qualche isolato piovasco sul settore occidentale in temperatura stazionaria venti deboli di direzione variabile mare tocomosso per l'abruzzo Grazie a tutti